A lanciare la suggestione è stato il fratello Enoch, ospite di un reality televisivo, che ha rivelato come Balotelli sarebbe ad un passo dal firmare con lo Spezia. Una notizia smentita dalla società a cui lotta, ma solo il nome di Super Mario, è bastato per far sì che la notizia finisse direttamente tra le scommesse della SNAI. La possibilità di Balotelli in maglia bianca entro il 31 dicembre è quotata a 7,50, così come col Bologna. C'è anche una squadra cinese e un trasferimento in Major League. Nonostante il mercato sia chiuso, l'attaccante può infatti firmare per una squadra, visto che al momento è svincolato. Il direttore generale Mauro Meluso, intervistato alla radio, è intervenuto anche in merito all'attuale situazione sanitaria, dopo la notizia che Marchizza, in ritiro con la nazionale italiana Under 21, è risultato positivo al Covid. Per quanto riguarda gli interventi fatti dalla società per prevenire il contagio, Meluso afferma. «Noi rispettiamo tutti i protocolli. Ieri nel centro sportivo del Ferdeghini abbiamo allargato tantissimo gli spogliatoi, addirittura ne abbiamo tre per evitare il contagio e aumentare il distanziamento sociale». Oltre a Marchizza nell'Under 21, continua Meluso, si è purtroppo contagiato anche Ismail e abbiamo dovuto interrompere l'iter per il trasferimento. Abbiamo dovuto aspettare.